E' perfetto per uno dimido come me. Perché è per questo che mi piace. Non posso farci niente. E' lei. Io non provo quello che provi tu. Forse non è che per un po' non possiamo trovare un po' di sé. Meglio che vado, no? L'hai deciso tu? In ogni direzione, it's fire on fire.